Torna alla vittoria l'Aquila che nel recupero interno della 26esima giornata di eccellenza batte 2 a 0 l'Alba Adriatica. Non passa neanche un minuto e l'Aquila costruisce subito una palla goal traversone di Di Ruocco spizzata di Dercole verso Saurino che però non ci arriva. Al 21esimo ci prova Massetti dal limite dell'area Barduagni, si allunga e respinge. 60 secondi dopo tiro a giro di Dercole che manca di pochissimo il bersaglio grosso. L'Alba Adriatica si fa vedere al 28esimo Di Stefano direttamente da calcio di punizione mette sul fondo. Minuto 32 l'Aquila di nuovo in avanti corner di Dercole che trova Massetti il cui destro secco coglie l'esterno della rete dando solo l'illusione del gol. Massetti che ci prova anche al 37esimo scheggiando la traversa dopo un invito di Di Ruocco. La gara si sblocca al minuto 41 Massetti lavora un ottimo pallone a metà campo e verticalizza verso Saurino. L'undici dell'Aquila di petto anticipa Barduagni in uscita e poi accompagna la sfera nella porta rimasta sguarnita. L'ultimo spunto della prima frazione è un gol annullato allo stesso Saurino per una posizione di fuori gioco. La ripresa inizia con una incursione dell'Alba Adriatica traversone di Di Stefano Colombatti per anticipare Torre va di testa. La palla carambola sul nove albense De Chirico para. Al quarto d'ora l'Aquila beneficia di un rigore per l'atterramento in area di Dercole da parte di Fabrizi. Dalla dischetto si presenta Massetti che spiazza Barduagni e porta l'Aquila sul 2-0. L'Alba Adriatica prova comunque a scuotersi. Punizione di Picone, De Chirico respinge. Poco dopo la metà della frazione, contatto tra Dercole e Barduagni. Il portiere dell'Alba Adriatica alla peggio è costretto a uscire in barella. Viene rilevato da Verissimo. L'ultimo spunto di cronaca è un tocco sotto di Di Ruocco su invito di Shiba. La sfera finisce alta sopra la traversa. Termina così l'incontro. L'Aquila con questi tre punti si riprende il terzo posto in classifica e si porta anche a meno uno dal Giulianova secondo in graduatoria. Domenica l'Aquila riceverà ancora in casa il Casalbordino mentre l'Alba Adriatica incrocerà la Virtu Scupello.